Un saluto a tutti. Il servizio ComunicaEns con la sua innovativa tecnologia permette di abbattere ogni barriera comunicativa. Grazie a ciò le persone sorde possono autonomamente chiamare attraverso diversi canali, messaggi, telegram, chat, email e da pochissimo videochat. In questo periodo di emergenza il servizio ComunicaEns intende aiutare gli abitanti sordi delle regioni Emilia-Romagna e Marche che sono in difficoltà. Il servizio sarà prestato dagli operatori a partire dal 18 maggio pomeriggio e fino alla fine dell'emergenza, dall'unedì alla domenica 24 ore su 24. Siamo vicini alle persone sorde delle zone colpite.